e quindi non c'è da ricaricare le batterie diciamo che questo gol sbagliato dal Carpi dove siamo stati fortunati ci servirà per il 2016 per preparare il Sermel e per avere sicuramente più attenzione di quella che abbiamo avuto oggi negli ultimi tre minuti Max ti ringrazio ma innanzitutto allora dove è finito questo oggetto che hai calciato e soprattutto il cappotto che hai tirato? Possiamo mettere all'asta in beneficenza? L'hai strappato? Che condizioni è? No il cappotto è buono la bottiglietta fortunatamente con il sinistro di solito non calciavo neanche è andata sopra la panchina quindi è andato tutto bene guardate qua l'immagine dell'anno grazie Max, tanti auguri, buon Natale